L'enoturismo delle Marche verrà disciplinato con una normativa regionale. L'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità la legge che fornisce agli operatori vitivinicoli delle opportunità innovative per implementare un'attività, quella enoturistica, dalle tante sfaccettature e compositive ricadute sul reddito aziendale. Dopo mesi di discussione e una veloce dibattito anche in aula, ma molto corretto anche con la minoranza che ha portato delle modifiche, abbiamo approvato una legge che secondo me è storica. Le Marche hanno tante cantine, centinaia di cantine, tante indicazioni geografiche, tante denominazioni, prodotti di eccellenza sul piano vitivinicolo ma anche sul piano enogastronomico in generale, ma nessuno le ha messe mai insieme facendolo diventare una forma di attrazione turista. Perché il tipo di turismo che sta andando di moda adesso è un turismo esperienziale, che cerca un'emozione, che cerca di provare come si fa la vendemmia, come si raccoglie il tartufo, come si fa la transumanza dei cavalli, cioè ci sono delle cose che noi diamo per scontato del nostro sistema agricolo perché le abbiamo sempre viste solo come un fatto produttivo e invece sono anche una grande opportunità dal punto di vista turistico. Però bisogna mettere dentro un contenitore e creare i cammini del vino, che sarà l'operazione che faremo a valle dell'approvazione della legge per avere dall'Europa il riconoscimento dei cammini come percorsi culturali. Un progetto già sviluppato in altri stati, ad esempio in Francia, ha detto Carloni, alla quale la regione si è ispirata. Quel tipo di movimento dà opportunità, lavoro, occupa gli alberghi, i ristoranti, le campagne sono in vase di turisti, ma anche di francesi, semplicemente che vanno con la scusa del vino a vedere dei luoghi in campagna dove però c'è la statua dell'artista famoso, il concerto, il ristorante con lo chef stellato o comunque con le produzioni locali, tradizioni locali, e noi avendo un patrimonio enorme di prodotti e di ricette, di capacità di qualità enogastronomica, dobbiamo metterlo dentro dei percorsi. Questi percorsi verranno chiamati cammini del vino e si sovrapporranno a delle aree di produzione geografica in modo da creare dei percorsi omogenei in cui i turisti potranno conoscere il nostro territorio. Quindi sarà una grande esperienza per le marche e credo che l'enoturismo darà tante soddisfazioni come produttore di vino ma in generale alla nostra regione.